Buongiorno ragazzi, finalmente finisco di farvi vedere i prodotti che mi hanno dato alla fiera dei profumi Infatti iniziamo da questo pacchetto, adesso mi metto già vicino al letto questa maschera notte Campioncini assortiti, c'è un'essenza, un prodotto che stavo sminuendo ma vi dico la verità Da quando ho ricominciato ad utilizzare le essenze la mia pelle sta rinascendo È il primo step della skin care dopo il tonico, vi dico la verità è magnifico Oh una mousse struccante, non vedo l'ora di provarla Un profumo sempre di eterea Questo pacchetto pesante Mi hanno dato due salviette struccanti e detergenti Questo è un siero in stick Ma no vabbè, questo lo proviamo in un video Ah mi è andato anche lo scrub Questo brand è super interessante perché fa prodotti skin care per la vulva Questo è fantastico, è stra buono, è super dolce Grazie a tutti